altro giro altra corsa dopo avervi parlato del comfort di sella oggi voglio parlarvi di quanto e di come si può inclinare la sella sulla vostra bicicletta da corsa nel mio caso io monto sulla mia merida una sella san marco quindi un prodotto italiano di buona qualità di ottima qualità anche se la mia sella ormai ha degli anni come si può vedere da questi segni la mia sella però è perfettamente in bolla e parallela al suolo avendola messa in bolla io ho la risposta diciamo così ottimale da questa sella e infatti la mia interazione interazione ciclista sella bicicletta è ottimale perché ottimale perché il produttore di selle che in questo caso è selle san marco ha pensato la produzione di questa sella con la sua messa in bolla quindi se voi volete usare appieno e sfruttare appieno le caratteristiche della vostra sella siete obbligati per forza di cose a metterla sempre in bolla siete obbligati a metterla in bolla non solo dal produttore ma anche dall'unione ciclistica internazionale nel caso in cui voi partecipiate a delle gare regolamentate dalla uc questo perché perché è vero che nel regolamento internazionale i giudici tollerano un'inclinazione di sella in avanti pari al massimo ad un grado e mezzo però molti giudici di gara quelli soprattutto molto zelanti che applicano il regolamento alla lettera e in modo rigido spesso e volentieri faranno correggere questo dato fino a riportarlo a zero cioè in bolla tuttavia il tenere la sella perfettamente in bolla può essere vantaggioso per molti ciclisti ma svantaggioso per altri soprattutto per quei ciclisti che hanno problemi alla zona perineale e genitale infatti questo tipo di ciclisti sono portati a inclinare in avanti la sella di un grado o al massimo due spesso e volentieri vi capita di vedere alcuni ciclisti che sono soliti inclinare la sella di un paio di gradi indietro questo perché perché a loro dire mettendo la sella inclinata indietro di un paio di gradi loro riescono a bloccare lo scivolamento del bacino in avanti durante la pedalata questo è uno sbaglio grandissimo perché può capitare che il ciclista si sente a scivolare in avanti ma questo non è dovuto all'inclinazione della sella errata ma è dovuto all'errata altezza della sella e ad un'errata distanza sella manubrio quando vi sentite scivolare in avanti non cercate di correggere il vostro scivolamento inclinando indietro la sella cercate semmai di rivedere la vostra posizione in sella andando a rivedere l'altezza della sella e la distanza sella manubrio il motivo principale che spinge molti atleti professionisti ciclisti professionisti o molti ciclisti amatori più scaltri ed esperti ad inclinare la sella in avanti di un grado o due è quello di poter ottenere una posizione aerodinamica più vantaggiosa infatti con la sella inclinata di un grado o due noterete subito che il vostro corpo sarà molto più schiacciato sul piano orizzontale del suolo e in questo caso ovviamente potrete avere un vantaggio aerodinamico con una sella inclinata verso il basso di uno o due gradi inoltre è più facile per i glutei sviluppare la potenza sui pedali come tutte le cose purtroppo molti ciclisti professionisti o amatori più scaltri più furbi hanno iniziato a inclinare la sella in avanti di un grado o due o a volte anche di più estremizzando questa posizione e questa inclinazione questo perché lo ho detto prima si hanno vantaggi aerodinamici e si riesce a far sviluppare al gluteo una potenza migliore e più efficace ecco perché appunto luci per bloccare derive pericolose perché ovviamente una sella molto inclinata può portare anche a posizioni pericolose ha cercato di regolamentare e limitare questo comportamento in un modo anche a volte molto oltransista ad ogni modo se il vostro obiettivo è quello di uscire in bicicletta e divertirvi senza partecipare a gare dell'unione ciclistica internazionale vi consiglio certo di inclinare la sella in avanti ma non più di due gradi bene ragazzi per oggi è tutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video ciao